Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo parlando di questo esodo estivo, questo è sicuramente il fine settimana più importante sotto il profilo dei flussi di traffico, soprattutto verso sud. E allora iniziamo con questo primo servizio. Tra le partenze, soprattutto a cavallo del Ferragosto, e tra coloro che invece inizieranno a rientrare, sarà indubbiamente un weekend da bollino nero nella viabilità italiana e anche nella rete autostradale. Alle nostre spalle l'ingresso di Arezzo dell'autostrada del Sole, indubbiamente una delle arterie più trafficate. Il bollino nero su strade e autostrade per il grande esodo di Ferragosto è già in vigore. Anas prevede aumenti consistenti di traffico, soprattutto verso sud. Per cercare di facilitare le partenze e mantenere fluida la circolazione, ha ridotto al massimo il numero dei cantieri attivi lungo la rete stradale e autostradale di sua competenza. Per la precisione, sono 811 quelli sospesi, fino al primo weekend di settembre. Intanto, il 14 agosto, proprio la patrona della A1, Santa Maria delle Vertighe, sarà portata in processione fino all'entrata di Monte San Savino, che rimarrà chiusa dalle 20 alle 24 per questo motivo. Dopo la benedizione del Vescovo Andrea Migliavacca a tutti coloro che percorrono l'autosole, la Santa Messa nel santuario recentemente restaurato. Monsignor Andrea Migliavacca è già venuto a Benedetto l'inizio dei lavori che sono partiti alla fine di gennaio e adesso ritornerà ovviamente per vedere questa nuova luce che emana il nostro santuario. La patrona dell'autostrada è proprio lei, Santa Maria delle Vertighe, quindi c'è una processione, il 14 sera si arriva fino al casello dell'autostrada, viene chiuso, il Vescovo benedice l'autostrada e si ritorna in qua per la Messa Pontificale. È un evento molto bello. Poi ci sono tanti eventi in questo mese di agosto che sono tutti eventi che servono quindi, come dire, alla beneficenza, è tutto pro santuario. Quindi io invito tutti a poter partecipare a tutti gli eventi e ad aiutarci in questo lavoro impegnativo ma direi emozionante e esaltante perché poter aiutare, non aiutare, poter sistemare nel meglio questo santuario è veramente entusiasmante, è qualcosa di bello. La Polizia Stradale assieme ai mezzi dell'Ampas è in collaborazione con Autostrade per l'Italia per tutta la giornata di oggi fino alle 18 del pomeriggio ha stazionato in alcune aree di servizio, tra cui quella di Badia Alpino Ovest nell'Aretino per dare informazioni e supporto a chi appunto si muove in queste ore verso i luoghi di vacanza. In questa giornata di Bollino Nero, di Esodo, siamo a parlare di sicurezza stradale assieme a Autostrade per l'Italia, a dare informazioni all'utenza a chi si avvicina. Polizia Stradale e Ampas ha a disposizione di chi in queste ore da Bollino Nero si mette in viaggio. Io sono convinto che avvicinino intanto alla conoscenza delle forze dell'ordine e del lavoro che svolgono che è importantissimo e in questi giorni poi, visto che si parla tanto di Bollino Nero, secondo me anche in Asosta io ho i bambini miei che stanno qua adesso, vengono a... li avvicino anch'io a conoscere un po' l'importanza del lavoro delle forze dell'ordine sulle strade, che è basilare. Siamo in un'area di servizio lungo l'autostrada del Sole, quella di Badia Alpino Ovest, Corzia Sud, nell'Aretino. La Polizia Stradale, oltre che regalare alcuni gadget ai più piccoli, fornisce importanti informazioni. Nessuno sa quanti metri si percorrono in un secondo a 130 km orari. 130 km orari è la velocità limite autostradale, in un secondo si percorrono 36 metri. Questo vuol dire che naturalmente se non rispetto la distanza di sicurezza è inevitabile che avvenga il tamponamento, che poi è la causa del 95% delle file che si percorrono, che si trovano in autostrada. Quando si trovano in colonnamenti il 95% dei casi è dovuto a un tamponamento. Poi sarà quello più grave, quello meno grave, quello che trova mezzi leggeri, ovvero mezzi pesanti, che fa la differenza. Ma insomma questa è la causa. Tra le cause degli incidenti anche nel tratto autostradale immagino ci sia anche l'uso purtroppo dello smartphone, che è un po' la causa anche principale degli incidenti sulle altre reti stradali. Evidente, la ringrazio della domanda perché è proprio il punto che è connesso a quello che abbiamo detto prima. Se io in un secondo a 130 km orari percorro 36 metri, a maggior ragione se la strada non la guardo, è evidente che io percorro, ci sono studi che lo hanno stabilito, in dei veri e propri distanze come un campo da calcio, al buio, completamente al buio. E tutto ciò che mi accade davanti è evidente che io, non è che non me ne accorga, non lo vedo. E c'è anche chi si sottopone al simulatore di guida in stato di ebrezza alcolica. Sì, ho provato ed è una bruttissima sensazione, quindi non guidati in stato di ebrezza. Insomma, ritiene utile queste postazioni della polstrada? Molto perché si insegna a tutti cosa significa davvero l'essere in pericolo, perché questo è un essere in pericolo sinceramente. Siete diretti in vacanza? Verso Salerno. Viaggio ancora lungo? Viaggio ancora lungo, abbiamo diviso a tappe per i bambini. Avete trovato fila dal nord? Un pochino sì, un po' di fila. Noi andiamo tranquilli, senza fretta. Siamo alla cronaca, controlli sotto il profilo della cosiddetta mala movida da parte della questura di Arezzo. Una licenza di somministrazione bevande alcoliche è stata sospesa e un locale è stato multato per mancato rispetto del divieto di somministrazione di alcolici e superalcolici in orario notturno. Sono oltre 40 i locali della movida, sia cittadini che non, che sono appunto stati controllati dagli agenti della Polizia di Stato. In queste ore controlli anche su strada, proprio disposti dalla questura di Arezzo. Trovato l'automobilista che la scorza notte a Foiano della Chiana, poco prima della mezzanotte, aveva investito in via di Sinalunga un ciclista per poi non fermarsi per prestare soccorso. I carabinieri sono risaliti a lui seguendo una serie di elementi, tra i quali i pezzi di carrozzeria trovati nel luogo dell'impatto appunto con il ciclista. Un 23enne egiziano ricoverato con alcune fratture alle scotte di Siena, ma non versa in gravi condizioni. L'uomo è stato denunciato, l'automobilista è stato denunciato per omissione di soccorso e lesioni stradali. Adesso siamo invece alla cronaca giudiziaria, è stata fissata la prima udienza, sarà in autunno per il processo a carico del 38enne che nella scorsa primavera uccise a coltellate la moglie e la suocera. Sarà il 14 di ottobre davanti alla Corte d'Assise di Arezzo la prima udienza del processo a carico di Jaguad di Sham, il 38enne di origini magrebine, che il 13 aprile scorso ad Arezzo uccise a coltellate la moglie Sara Ruschi di 35 anni e la suocera Brunetta Ridolfi di 76. Il duplice omicidio avvenne sotto gli occhi dei due figli della coppia, un ragazzo adolescente e una bambina in tenera età. Gli unici testimoni di quella notte di orrore che sconvolse l'intera città. Fu proprio il ragazzo a chiamare il 118. Il 38enne, che si trova adesso nel carcere di Prato, non potrà ricorrere a riti alternativi. Il giudice ha fissato il giudizio immediato, in calendario appunto per il 14 di ottobre, davanti alla Corte d'Assise. L'accusa di cui dovrà rispondere è di duplice omicidio aggravato dalla convivenza stabile. Non gli è stata contestata la premeditazione. Rischia l'ergastolo. I figli della coppia e i familiari delle vittime si costituiranno parte civile. Ancora due incidenti sono avvenuti nell'Arettino. Uno al crossodromo di Pietraia, nel comune di Cortona. È rimasto ferito un centauro di 20 anni, trasferito poi in codice giallo all'ospedale di Nottola. Sul posto, un'ambulanza infermierizzata della misericordia di Cortona, che appunto ha poi trasportato il ferito all'ospedale di Nottola. L'altro incidente invece è accaduto questa mattina a San Zeno, quindi ad Arezzo. In questo caso è stata un'auto che è finita fuoristrada per poi capotarsi sul posto. I figli del fuoco di Arezzo per gli interventi di bonifica e messa in sicurezza dell'area. Un'ambulanza della misericordia di Arezzo e un'automedica e la polizia municipale per i rilievi di legge. È rimasto ferito un 85enne, trasportato in codice giallo all'ospedale San Donato di Arezzo. È stato invece ritrovato dopo ore di ricerca un novantenne uscito di casa per una passeggiata e poi non aveva fatto appunto rientro. L'allarme era partita addirittura proprio da ieri, venerdì 11 agosto. L'uomo, residente in località Monte Fatucchio, sarebbe in buone condizioni di salute. Il novantenne era uscito alle 15, poi appunto nessuna notizia per le ricerche. Si erano attivati i vigili del fuoco e il personale della comunità montana del Casentino. E allora, in apertura abbiamo parlato dell'esodo estivo. Questo, come dicevamo, è il fine settimana più importante per chi parte, ma c'è anche chi arriva. Abbiamo fatto allora un bilancio per quello che riguarda il turismo, proprio appunto ad Arezzo. Quindi coloro che hanno scelto la nostra città, perché no, anche per questo weekend di Ferragosto e poi anche per i mesi avvenire con la fondazione Arezzo in Tour. In Italia sta andando male. Il turismo interno è di molto diminuito. Zone che solitamente in questo periodo sono piene, strabocca di villeggianti, di turisti, hanno vuoti assoluti. Noi ci stiamo difendendo in maniera anche onorevole, direi. A Arezzo, in controtendenza ad un agosto con segno meno, si respira un clima positivo, con numeri che superano abbondantemente le caute previsioni di inizio anno. Abbiamo messo in conto che il 2023 potesse essere un anno strano, invece fino a luglio è stato strano, ma nel senso opposto, molto positivo. Agosto denota un lieve calo, anche se lo vedete da soli. In città ci sono un sacco di turisti, peraltro molti stranieri. Sono aumentati molto. Noi monitoriamo le presenze alberghiere in maniera puntuale. Non possiamo monitorare quelle extra alberghiere, quindi B&B, agriturismi, eccetera. Obiettivamente c'è un lieve calo sulle presenze negli alberghi della città, però tutta questa gente fa presupporre che le strutture extra ricettive stiano andando benino. Un risultato frutto anche del lavoro di promozione territoriale della Fondazione Arezzo in Tour. La promozione della destinazione è stata notevole, è stata efficace soprattutto. Ora non basta più promuovere la destinazione. Servono servizi per i turisti, serve un tipo di accoglienza più completa. Non basta la bellezza della città, sì che semplici, termine serve che accanto a questa bellezza ci sia qualcosa che invita il turista ad arrivare prima di tutto e soprattutto a rimanere e non fare il muro di Fuggi. Bene anche i musei con la gestione della Fondazione. Il biglietto unico dei musei statali c'è sempre stato. Lo abbiamo, ripeto, rinverdito da un punto di vista grafico, da un punto di vista così di promozione, ma c'è sempre stato e funziona molto bene. Da un mese a questa parte esiste un altro biglietto unico, noi lo chiamiamo Arezzo Musei Pass B, che contempla i musei civici, comunque musei non statali, che hanno aderito a questo circuito, che sono o del Comune, della Fondazione Guido o di soci privati, e che sta andando piuttosto bene, perché, ripeto, è veramente un mese che è nato e ne abbiamo venduti molti. E per tutte le famiglie che hanno con sé un animale domestico e che non possono portarlo in vacanza, anche perché non tutte le strutture turistiche purtroppo accettano i nostri amici a quattro zampe, c'è una soluzione davvero bella. Ce la racconta Chiara Sadotti. È semplice come ambiente, però ai gatti stanno avendo un'ottima risposta. Gli ho messo anche le menzoline, perché così riescono a spostarsi ovunque. La finestra, quindi c'è la menzola anche alla finestra, perché così guardano fuori. La sedia, è un ambiente piccolino, però sta piacendo ai gatti. Tiragraffi di ogni forma, cucce sospese, morbide e coperte. Insomma, un hotel a 5 stelle per gatti, per quando i proprietari sono in vacanza. Materia gatti, siamo molto indietro. Sui cani hanno fatto grossi passi avanti negli ultimi anni, sui gatti speriamo che questa mentalità si apra sempre più. Hanno bisogno di affetto anche loro, hanno bisogno di attenzione anche loro, rischiano di stressarsi, sono molto delicati i gatti. L'innovativa pensione per gatti è nata a Montagnano, in provincia di Arezzo, dalla passione per gli animali di Carlotta, alla quale si aggiungono anni di formazione. Prego. Impari tantissimo dai singoli gatti, dai proprietari, perché devi ascoltare le esigenze dei proprietari, devi ascoltare le esigenze dei gatti. I mici vengono accolti in una struttura di legno, fresca in estate e calda in inverno. Ogni camera, avendo le sue finestre, qua è una zona ventilata, quindi l'aria riesce a circolare bene, quindi siamo riusciti a parlare nuovamente di benessere animale. 5. La cameretta a disposizione per i gatti, stanze singole o per più mici, dello stesso proprietario. Ognuno ha la sua paletta, ognuno ha la sua ciotolina, ognuno ha la sua situazione. Prima che arrivi un altro gatto viene disinfettato tutto, lavato tutto, cambiato tutto, ci si sta attentissimi. Massima attenzione anche dal punto di vista sanitario. Tutti hanno il vaccino per la leucemia felina. Io devo essere sicura che il gatto che mi entra è protetto e che gli altri gatti che verranno saranno protetti come lui. Parliamo ancora di aperture straordinarie per questo weekend di Ferragosto. La Casa Museo di Ivan Bruschi sarà aperta fino appunto al 15 di agosto. La cultura non va in vacanza e così, anche ad Arezzo, la Casa Museo Ivan Bruschi è pronta ad accogliere i visitatori con le aperture straordinarie per le giornate del 14 e del 15 agosto, visite ad ingresso gratuito in linea con le Gallerie d'Italia, Polo Museale d'Intesa San Paolo. Alla Casa Museo dell'Antiquariato Aretina, che custodisce l'eclettica collezione dell'illustre Aretino, ideatore della Fiera Antiquaria, sarà possibile scoprire il nuovo percorso espositivo permanente da Pontorno a Fattori, le stanze dell'arte, opere delle collezioni Intesa San Paolo. Sono infatti arrivate ben 11 opere pittoriche dal patrimonio di Intesa San Paolo che adesso saranno in pianta stabili qui alla Casa Museo e questo ci valorizza, ci arricchisce tantissimo con opere appunto che vanno dal 400 al 500 e faccio qualche nome di artista importante come il Pontormo, il Busiardini e poi un nucleo incredibile di opere dell'800. Visitabile anche la mostra fotografica La Sottilità dell'aria, Arezzo e il suo territorio negli archivi alinari. Far scoprire la città, il territorio di Arezzo tra due secoli, tra l'8 e il 900 è sicuramente una cosa che incuriosisce l'Aretino ma anche il turista che viene ad Arezzo oggi nel XXI secolo e capisce le trasformazioni che poi ci sono state e tutta la storia e l'arte che contraddistingue la nostra città. E adesso invece parliamo di quella che sta per vivere la nostra emittente, un'avventura davvero importante sotto il profilo della produzione televisiva questo ovviamente dal punto di vista professionale dal punto di vista invece folcloristico parliamo della Costa d'Argento appunto questo angolo di Toscana in particolar modo Porto Santo Stefano sta per vivere proprio uno dei suoi momenti se non il momento più bello di tutto l'anno proprio il Palio dell'Assunta il Palio che si tiene appunto il 15 di agosto nello specchio di mare di Porto Santo Stefano per quanto ci riguarda sarà appunto un'avventura professionale perché saremo proprio noi a realizzare la diretta televisiva che andrà poi anche in diretta streaming e allora vediamo il servizio. Si dice in Marema siamo in fondo all'imbuto quindi siamo in direttura di arrivo e qui poi la cosa diventa manca quello, ti manca quell'altro pensi ho scritto quello, ho fatto quell'altro quindi stiamo sì stiamo in questo momento anche perché poi tutti noi cominciando dall'ente Palio il capitano del Palio l'amministrazione insomma vogliamo offrire uno spettacolo più gradevole più che sicuro e quindi stiamo anche i minimi dettagli vengono considerati e se ci sono dei problemi vengono risolti insomma. Poche ore la Costa d'Argento vivrà il suo giorno più atteso il Palio Marinaro dell'Argentario nel giorno dell'Assunta l'edizione è di quelle da incorniciare la numero 80 la gara a Remiera vedrà sfidarsi nello stadio di Turchesi a Porto Santo Stefano i quattro rioni Croce, Pilarella, Valle e Fortezza una regata di 4.000 metri suddivisi in 10 tratte preceduta dalla sfilata degli equipaggi con madrine e portabandiera Per noi il Palio è un giorno importante è un giorno importante anche dal punto di vista della sicurezza dal punto di vista diciamo della tenuta di tutte le strutture comunali insomma sono stato anche in prefettura a parlare di questo livello di sicurezza che va ricordiamoci che se succede qualcosa di brutto ne va a rischio il Palio quindi è un appello anche ai cosiddetti palianti a quelli più sfegatati di mantenere comunque la calma perché il Palio è bello ma siamo all'ottantesima edizione vorremmo che ci sia anche un 81esimo un 82esimo Il drappo disegnato da Luigina Loffredo quest'anno rappresenta tre centenari tra cui la nascita di primo minutolo ex timoniere comandante del Palio che ha fatto la storia della competizione sarà una festa comunque vada ma tra i risultati più attesi c'è la terza vittoria consecutiva della Pilarella che significherebbe Coppa d'Oro o la vittoria del Valle che non arriva dal 2009 Speriamo che il Palio vada bene speriamo che questa Pilarella vinca la Coppa d'Oro o come la chiamo io la Coppa d'Ore perché c'è tanti c'è tanti discorsi al riguardo quindi è sempre una Coppa che comunque qualcuno dice sì però non so tre anni consecutivi poi del resto il Palio è bello perché è una polemica non è una gara diciamo di ciclismo è il Palio quindi c'è anche un fattore il fattore determinante è proprio questa paesanità questa goliardia che c'è fra rioni e quindi io non dovrei dirlo ma comunque dico forza valle viva il valle ed infine chiudiamo con una notizia di podismo si è disputato ieri sera presso il Santuario delle Vertighe organizzata dall'Associazione Festeggiamenti delle Vertighe dal Comune di Monte San Savino la edizione numero 8 della corsa podistica valida per il Grand Prix che è stata vinta nel campo maschile da Emanuele Graziani e in campo femminile invece dalla grossetana Marcella Municchi quasi 150 i concorrenti al Via fra competitivi e non che hanno affrontato il circuito particolarmente impegnativo nella categoria veterani ha vinto Giacomo Mazzarelli della Subiano Marathon prossimo appuntamento del Grand Prix giovedì 17 agosto alla Corri Lerchi di Città di Castello è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per l'attenzione e arrivederci per l'attenzione Grazie a tutti.